Continua su tutto il territorio del Cilento il controllo contro l'abbandono di rifiuti. Nella giornata di ieri, la NITA, nucleo intervento, tutela ambientale di Agropoli, con l'ausilio di droni ha perlustrato diverse aree oggetto di discariche nel Cilento. Nella giornata di ieri, con l'ausilio della sezione droni, notavano in collina San Marco di Agropoli un varco nella macchia. Da un più attento rilevamento poi si capiva che era stato creato artificialmente, risultato poi con un rilevamento un altro luogo di abbandono di rifiuti. Documenti, carte di credito, valigie, borse e oggetti personali sono stati rinvenuti dalle guardie. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale agli ordini del comandante Carmine Di Biasi. Già lo scorso 18 agosto la NITA aveva fatto un controllo in altra zona e anche lì si era trovata un'area usata per nascondere la rifiuti. Con i carabinieri della compagnia di Agropoli intervenuti sul posto si è poi provveduto a rintracciare i legittimi proprietari di zaini e borse ritrovate.